Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Agilità emotiva di Susan David. David è una professoressa di psicologia ad Harvard, ha collaborato con l'alta dirigenza di importanti organizzazioni tra cui le Nazioni Unite, Ernst & Young, World Economic Forum, ecc. L'agilità emotiva è un approccio rivoluzionario basato sulla scienza che ci consente di affrontare le mille difficoltà della vita con accettazione di sé, lucidità e mente aperta. Cominciamo subito con il riassunto. Come sentire correttamente le proprie emozioni. L'agilità emotiva può essere considerata un manuale per un completo cambiamento comportamentale. È normale che a un certo punto della vita tutti abbiano bisogno di questo tipo di cambiamento. Questo libro spiegherà come le emozioni e le esperienze passate ci hanno influenzato. La chiave per imparare ad affrontare le proprie emozioni è, prima di tutto, non ignorarle, ma capire cosa significano. È essenziale anche cercare di pensare oltre il presente. Dobbiamo pensare a come i nostri atteggiamenti influenzano il nostro futuro. Stiamo agendo secondo i nostri progetti e i nostri obiettivi di vita? Neghiamo le nostre convinzioni per essere accettati? Quindi imparate a lavorare in modo diverso e raggiungerete il vostro pieno potenziale. Scoprite di più sull'avere un'intelligenza emotiva ben sviluppata grazie a questa lettura. Tutti attraversano periodi di cambiamento e di incertezza nella vita. Durante questi periodi probabilmente proveremo molte emozioni. Tuttavia impariamo fin da piccoli che le emozioni negative come la tristezza, la rabbia e la paura sono un male. Abbiamo imparato che Cenerentola era triste e aveva bisogno di un bel vestito e di un principe per essere felice. C'è anche la famosa espressione «i grandi non piangono». Quando si pensa alle varie emozioni che gli esseri umani sono capaci di provare, come paura, gioia, dolore, tristezza, senso di colpa, disprezzo, inganno, ci si rende conto che la maggior parte di esse sono considerate dannose. Se dobbiamo essere felici, allora perché esistono queste emozioni negative? Ci viene detto di pensare positivo e siamo impegnati a cercare di superare le aspettative di smettere di ascoltare le nostre emozioni. Quando si dà un sorriso falso o ci si sforza ad essere felici, si ignorano i segni vitali che esistono per muoversi nella giusta direzione. La paura, ad esempio, può sorgere per darvi un avvertimento. Se non avete paura potreste pensare che saltare da un precipizio sia una buona idea. Le emozioni negative non sono il problema. E rifiutare la loro esistenza o considerarle eccessivamente negative, d'altra parte, è uno dei maggiori ostacoli al nostro sviluppo emotivo. Affrontiamo questo tipo di emozioni in uno di questi modi, mantenendo tutte le emozioni o preoccupandoci troppo di esse. Chi si aggrappa ai propri sentimenti cerca di ignorarli tutti, il che lo lascia soffocare fino a farlo esplodere in modo malsano. Una persona troppo preoccupata, invece, sovranalizza le emozioni preoccupandosi di tutto in un circolo vizioso fino ad affrontare così tante difficoltà che lo portano ad affondare nei pensieri. Queste due tecniche sono dannose per il vostro benessere emotivo e spesso causano problemi nelle vostre relazioni al lavoro e a casa. Mentre ci sono situazioni che richiedono di custodire i propri sentimenti come, ad esempio, un test e bisogna imparare a sentire le proprie emozioni e per fare questo servono quattro fasi che dobbiamo seguire. Siate presenti, bisogna sentire le emozioni e riconoscerle, fare un passo indietro, creare una distanza e vedere la situazione più chiaramente. Spesso, quando siamo troppo coinvolti in una situazione, facciamo fatica a ragionare in modo chiaro. Dobbiamo imparare a distanziarci dalla situazione per riuscire a vedere il quadro più completo. Agite sulla base dei vostri valori e dei vostri obiettivi a lungo termine e lasciate perdere. Accettate la vostra decisione e andate avanti. Spesso rimanendo intrappolati, nonostante la decisione sia presa, porta a ulteriori problemi. Se avete deciso che farete quella cosa, ci sono dei rischi, però siete disposti a intraprenderli, allora andate avanti e non pensateci più. Ogni emozione è sentita per un motivo e solo dopo che abbiamo effettivamente permesso a tutte le emozioni di apparire, impareremo a vivere al meglio e potremo essere fedeli ai nostri valori e ai nostri obiettivi personali. Non bisogna quindi, secondo David, soffocare le proprie emozioni. Identificare la differenza tra paura e intuizione Ogni giorno prendiamo delle decisioni e la maggior parte di esse sono influenzate dalle nostre emozioni. Di solito convalidiamo la nostra decisione dicendo che abbiamo un intuito, che in alcuni casi può essere vero. Tuttavia il problema di questo approccio è che le nostre emozioni non sono sempre affidabili. Mentre attraversiamo gli alti e bassi della vita, cominciamo a raccogliere storie di sconfitte che ripetiamo quando abbiamo bisogno di un po' di conforto. Ad esempio, sono pessimo nel multitasking, oppure odio a lavorare con personalità forti in ufficio e questo finisce per influenzare le nostre decisioni quotidiane perché possiamo evitare di intraprendere un nuovo progetto che potrebbe portare ad una promozione perché non crediamo di esserne capaci. Siamo bloccati in queste vecchie storie e dobbiamo imparare a distaccarci per affrontare situazioni reali. Ad esempio, hai imparato che un progetto di lavoro che ti entusiasmava non sarebbe portato a termine a causa dei vincoli di budget e all'inizio ti senti arrabbiato. Il tuo istinto è quello di arrenderti e iniziare a cercare altri lavori. Invece dovresti prenderti il tempo di essere presente e renderti conto che questa situazione ha fatto scattare il ricordo di un momento del passato in cui sei stato svalutato e hai perso il tuo lavoro. Puoi quindi fare un passo indietro e renderti conto che il tuo capo semplicemente non ha più soldi e che l'azienda ti apprezza abbastanza per raccontarti personalmente la situazione. Così ora ti senti deluso e non più respinto. Invece di essere arrabbiato, decidi di esprimere questa delusione in modo costruttivo. Seguendo questi passi spiegati prima vi aiuterà a distinguere l'intuizione dalla paura e a fare chiarezza per affrontare la situazione che vi si presenta. Potrete quindi decidere quale atteggiamento adottare e andare avanti sapendo di aver preso la decisione migliore per te. Avere piena coscienza L'insensibilità è l'atto di vivere senza alcuna percezione o consapevolezza delle persone o dello spazio che ci circonda. La consapevolezza o l'attenzione è diventata un'espressione della moda il che significa vivere nel presente e avere un legame con se stessi e con le persone che ci circondano. Molti di noi hanno trascorso spesso la giornata senza badare a se stessi. Questo non significa che siamo persone cattive siamo solo troppo impegnati e concentrati su qualche compito o bloccati nei nostri pensieri senza alcun legame con il presente. Ecco alcuni consigli di Susan David per identificare se siete svogliati oppure no. Spesso quando siamo svogliati lasciamo che le cose accadano senza accorgercene. Mettiamo gli oggetti in posti strani come l'apri scatole nel frigorifero. Quando conosciamo qualcuno ci dimentichiamo immediatamente del nome della persona. Non ci accorgiamo quando le cose sono sbagliate. Se ti suona familiare devi passare un po' di tempo a riconnetterti con il presente. Per prima cosa ammetti che va bene sentirsi come ti senti e trascorri del tempo con quell'emozione in modo compassionevole. Queste tecniche possono aiutarti a diventare più consapevole. Svuota la mente e respira. Scegli un oggetto nel tuo campo visivo e concentrati su di esso per un momento. Durante le tue attività quotidiane come lavarti i denti concentrarti su un determinato lavoro eccetera cerca di essere presente di cogliere gli odori le sensazioni le emozioni il processo se ad esempio stai che ne so cucinando cerca di di essere presente e di cogliere ogni componente del lavoro che stai facendo tutto il processo quindi trova una canzone che ti piace ascoltala come se fosse la prima volta questo questi passi secondo David vi aiuteranno a capire meglio gli eventi e quanto siete reattivi ai fatti immaginari quando proviamo emozioni forti come la tristezza o la paura è difficile prendere le distanze immediatamente in quelle ore si ha la sensazione che il mondo stia finendo e solo tu puoi vedere l'andamento delle cose e solo tu puoi decidere a cosa credere diventare più consapevoli del proprio modo di vivere della propria realtà è un modo per vivere il presente e allo stesso tempo è il miglior modo per allontanarsi dalle proprie emozioni e vederle con compassione e curiosità avere atteggiamenti che supportano i vostri valori personali siete persone che seguono la folla molti lo fanno perché questo provoca una gratificazione immediata ci aiuta ad appartenere al gruppo e ci permette di goderci la vita con meno responsabilità personali il problema è che tale comportamento non è compatibile con un senso di scopo o di felicità a lungo termine questo vi porterà a vivere una vita basata sui valori degli altri che non sostenete e vi metterà su un percorso che non vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi personali uno dei colpevoli di questo tipo di comportamento è il contagio sociale particolarmente comune sul posto di lavoro diciamo che ai vostri colleghi piace parlare del vostro capo durante il pranzo a voi di solito voi di solito partecipate alla conversazione parlando di tutte le difficoltà che avete sul lavoro e quando tornate in ufficio non vi sentite meglio perché non rispettate uno dei vostri valori fondamentali che è quello di apprezzare il vostro lavoro e promuoverlo trascorri un po' di tempo a pensare ai tuoi valori fondamentali ai tuoi obiettivi personali rispondendo a queste domande cosa conta davvero nella tua vita quali situazioni ti fanno sentire bene che tipo di relazione vorresti avere se la tua vita fosse un film cosa sarebbe ora analizza i tuoi atteggiamenti quotidiani a casa o al lavoro e rifletti se sostengono questi valori e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi l'idea di essere così connessi a ciò che si vuole e a ciò che si apprezza da non sentire più il bisogno di autosabotare o di comportarsi in modo distruttivo invece di seguire i passi e le idee della felicità altrui è il momento di pensare a ciò che si vuole e di impostare la propria versione della felicità quando scoprirete e vi ricollegherete alle cose che vi interessano veramente le vostre decisioni quotidiane saranno molto più facili sarete anche in grado di impostare la vostra versione del successo e di lasciare il confronto sociale cercare di apportare modifiche e durature spesso prendiamo decisioni drammatiche quando vogliamo cambiare le cose cambi di lavoro di carriera o di città in alcuni casi tali atteggiamenti possono essere necessari ma a volte portano a frustrazioni e a paure cercate invece di lavorare con quello che avete e di fare piccoli cambiamenti che vi saranno utili ora e in futuro ci sono tre aree chiave che potete cambiare per generare un atteggiamento positivo e duraturo nella vostra vita queste sono queste tre aree sono la vostra mentalità le vostre motivazioni e le vostre abitudini ad esempio se fate un piccolo cambiamento nella vostra mentalità riguardo al vostro atteggiamento verso l'esercizio fisico potreste non sentirvi in colpa per non aver frequentato la palestra pensate a tutte le attività che fate durante il giorno come pulire la casa andare al lavoro a piedi portare a spasso il cane correre dietro ai bambini fare shopping o passeggiare per la città meglio ancora provate a scaricare un contapassi sul vostro cellulare e a vedere i risultati ripensare a tutte queste attività ridurrà i vostri livelli di stress portandovi ad una diminuzione della pressione sanguigna e persino alla perdita di peso dato che siete meno tentati di cercare conforto nel cibo per alleviare il vostro senso di colpa per non aver frequentato la palestra per aggiustare le vostre motivazioni la chiave è rimanere connessi ai vostri valori personali e non concentrarsi su ciò che volete ora alla ricerca della felicità immediata ampliare la vostra visione per una motivazione a lungo termine vi aiuterà a raggiungere naturalmente le vostre cattive abitudini ad esempio se state cercando di avere un figlio allenarvi per una maratona o volete vivere più a lungo allora fumare non ha più senso per voi invece di combattere una battaglia persa con i vostri sentimenti negativi di colpa o di vergogna cercate di raggiungere le cose che sono più importanti per voi i piccoli cambiamenti possono sembrare insignificanti oggi ma contribuiscono a una storia più ampia e stimolante migliorare le vostre convinzioni motivazioni e abitudini nel presente può avere un impatto duraturo sulla vostra vita e aiutarvi ad andare avanti cambiando non solo il presente ma anche il futuro trovare l'equilibrio tra comfort e sfida il modo più semplice per superare gli alti e bassi della vita e avere conforto in ciò che è familiare il modo più difficile è sfidare se stessi e fare cose che ti mettono a disagio il modo migliore è trovare un equilibrio tra l'essere molto a proprio agio e l'essere molto sfidato e solo tu puoi capire come farlo a tutti noi piace essere vicini a ciò che ci è familiare il problema è che se facciamo solo cose che abbiamo già fatto in passato non impariamo nulla di nuovo e continuiamo ad avere gli stessi risultati se ad esempio vendete prodotti al telefono e fate 10 telefonate al giorno il massimo che avete venduto sono due prodotti se continuate a fare sempre 10 telefonate ovviamente venderete sempre due o tre prodotti se invece fate 100 telefonate è probabile che vendiate 20 prodotti quindi spesso cambiare atteggiamento approccio porta a risultati diversi mentre mantenendo lo stesso approccio solitamente si hanno gli stessi risultati questo può portare alla noia al dubbio in alcuni casi anche alla depressione questo non significa che si debba prenotare ora il prossimo viaggio nella savana bisogna solo trovare un sano equilibrio tra il comfort e la sfida un certo livello di sfida e persino l'ansia è fondamentale per aiutarci a progredire alcuni si riferiscono all'equilibrio tra comfort e sfida come ad uno stato di tensione creativa ci sono due modi per trovare questo equilibrio e promuovere il proprio sviluppo personale espandendo la propria respirazione quindi ciò che si fa e la propria profondità quanto bene si fa se ti annoi con la monotonia della tua vita o sei esausto per l'iperattività ripassa quello che stai facendo e fatti queste domande questo mi aiuterà ad essere la persona che voglio essere mi piace quello che sto facendo questa questa ricerca o questo procedimento può davvero essere un successo la chiave è perseguire le sfide che vi aiutano ora e in futuro e avere anche il coraggio di rinunciare a coloro che non hanno alcuna relazione con il vostro scopo quando riuscirete a fare questo e a trovare un equilibrio tra comfort e sfida avrete un rinnovato senso di scopo energia ed entusiasmo per la vita questo era il libro agilità emotiva di Susan David un libro che spiega la correlazione tra agilità emotiva e qualità di vita spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video ciao